Musica L'ultra sera casualmente abbiamo scoperto che sei un fan di Natazeo Sì, sì, l'altro ieri siamo messi un po' a cantare, sono un grandissimo fan di Renato Zero Il mio hobby è uno di questi qui, è la canzone, a me piace molto sentire la canzone, vedere film, divertirmi perché sono un ragazzo giovane, come tutti gli altri Invece di Salvatore Aurelio Calciatore, che cosa ci dici? Io vengo da Cesena, da un'annata non molto buona, positiva, con tantissime vicissitudini alle spalle Però quest'anno sono venuto qui a Crotone con tantissima voglia di fare, tantissimo entusiasmo Che il mister anche mi ha trasmesso e anche il gruppo, ho trovato un gruppo fantastico Veramente anche la società, non mi aspettavo veramente un calore così forte Il mio ruolo è seconda punta, io nasco come seconda punta Ho avuto anche la fortuna quest'anno che il mister adesso mi sta provando come seconda punta E sono contento anche calcisticamente sotto quel profilo Il ritiro sta andando benissimo secondo me, come parlo del mister io l'ho conosciuto telefonicamente Poi ho avuto l'occasione di conoscere di persona, di scambiarci delle idee È una persona semplice, è stato anche lui giocatore, una persona disponibilissima E poi come mister è bravo, non piace come fa a giocare alla squadra, le sue idee Il gruppo, ripeto, fantastico, dei ragazzi umili, sinceri, disponibili a tutto Ripeto, non pensavo veramente di trovare un'accoglienza, un gruppo così bello A livello personale io mi spero di fare molto bene Però mi lego che lo devo fare anche per il crotone, per la società, per il gruppo che mi sta dando fiducia E per tante persone che devo far vedere che Sasa Aurelio è sempre Sasa Aurelio